Le battute per approcciare una donna. Quali sono le battute per approcciare una donna? Le battute per approcciare una donna non esistono perché le donne, quelle vere, non si farebbero mai approcciare con una battuta. Alle donne piacciono le battute, piace l'ironia, in una seconda fase, nel secondo step, dopo una prima iniziale conoscenza. Allora potete cominciare in modo soft a fare qualche battuta, ma approcciare una donna con una battuta è sbagliatissimo. Le donne detestano questo tipo di uomini e o non li prenderanno neanche in considerazione, neanche risponderanno, oppure susciteranno ancora nervosismo e quindi vi manderanno a quel paese. Lasciate perdere le battute per cortesia, tra l'altro battute idiote, pensate ovviamente da uomini idioti, per favore. Io capisco che sia difficile per voi uomini, secondo il vostro cervello, approcciare una donna, però vi posso assicurare che è molto più semplice di quanto potete immaginare. Presentatevi tranquillamente, in modo cordiale. E allora una donna sarà disposta a conoscervi. Ciao a tutti.